Con i sindacati? Grazie. Guardi, penso che il tema delle pensioni vada affrontato in maniera più organica di quanto si sia fatto finora, anche da noi. È sicuramente una materia che va affrontata anche con le parti sociali, soprattutto se le parti sociali hanno voglia di fare questo lavoro con noi. Posso dirle che io però sono soprattutto fiera del lavoro che abbiamo fatto, particolarmente con l'ultima manovra di bilancio sulle pensioni dei giovani. Perché questo è un tema che tutti hanno fatto finta di non vedere, e cioè che noi stiamo mantenendo il nostro sistema pensionistico scaricandolo su chi non si può difendere. E che c'è un gap di garanzie tra chi oggi va in pensione e chi ci andrà fra 30 anni, 20 anni, 30 anni, che è enorme. Allora abbiamo cominciato a mettere da questo punto di vista qualche paletto e io la considero un elemento molto importante. Chiaramente la sostenibilità del sistema pensionistico va costruita con un equilibrio, cioè deve essere il sistema migliore possibile ma deve essere uguale per tutti. E questo è qualcosa che oggi ha dei problemi che vanno affrontati. Per cui io penso che vado affrontato in maniera organica, so che ci sta lavorando il ministro Calderone, so che su questo c'era anche una richiesta dei sindacati a confrontarsi, a partecipare. Forse un lavoro già avviato, adesso sto andando a memoria e penso che sia cosa estremamente proficua. Grazie Simone Canettieri, Il Foglio. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, ritorno sul caso Pozzolo perché secondo molti osservatori ha rivelato un problema di classe dirigente che lei in un certo senso questa mattina ha strigliato e ha avvisato. Il suo partito, visto un po' da lontano, insomma da noi, sembra avere però ancora una struttura di quando era al 4%, quasi a conduzione familiare. Però i sondaggi, come tutti sappiamo, la danno al 30. Le chiedo allora se non pensa che in prospettiva sia necessario allargare il suo partito alla società italiana, alle forze migliori, anche a tradizioni politiche diverse, lanciando magari dopo le europee un partito unico, quello dei conservatori, era un'idea che lei spesso di cui ha parlato. E quindi le chiedo se coltiva questo sogno e magari anche quello di, che non sarebbe un sogno ma un progetto, di archiviare la fiamma dal simbolo dopo le europee, qualora dovesse nascere questo nuovo partito. Grazie a lei, ma guardi, sono tutte cose sulle quali attualmente non ho la testa, sicuramente una mia aspirazione è quella di rappresentare sempre più cittadini. Mi pare, diciamo, anche di averlo fatto sia nella classe dirigente di Fratelli d'Italia, poi torniamo sul conduzione familiare, sia in tema di candidature di Fratelli d'Italia, di allargamento della classe dirigente di Fratelli d'Italia a nuove culture, a nuovi mondi, che non erano propri della destra politica, che si sono avvicinati al nostro partito, che oggi collaborano portando il loro valore aggiunto. Questo è un lavoro che sicuramente bisogna continuare a fare, che bisogna continuare a fare nel rapporto con la politica, che bisogna continuare a fare nel rapporto con la società civile, cioè che bisogna continuare a fare. Per quello che riguarda il rafforzamento della classe dirigente, ripeto, io non ho la lettura da lontano che avete voi, ho quella da vicino di una persona che il partito lo conosce e ho molta più stima della classe dirigente di Fratelli d'Italia, di quanta ne legga molto spesso sui quotidiani, ma anche qui non vuol dire che non si possa lavorare sempre per continuare tutti a crescere, a fare sempre meglio il proprio lavoro, che in alcuni casi si sbaglia e che quando si sbaglia si debbano dare i segnali che vanno dati, come accade in tutte le migliori famiglie. Però sul tema, diciamo, la conduzione familiare mi consenta di tornarci, Canettieri, perché insomma colgo le sfumature e questa accusa continua di familismo che viene rivolta a Fratelli d'Italia comincia a stufarmi. Allora voglio fare questo esempio. Nell'attuale legislatura ci sono almeno due coppie di coniugi, entrambi parlamentari. Sono entrambe a sinistra, una nel PD e una in sinistra italiana. In sinistra italiana c'è complessivamente un gruppo di otto persone, quindi queste due persone fanno il 25% del gruppo. Non ho mai sentito l'accusa di familismo e sa cosa sarebbe stato sbagliato farla? Perché chi conosce la storia politica, di chi milita nella politica, sa che la politica spesso diventa tanto altro. Sa che quando tu dedichi alla politica tutto quello che hai accade, che le persone che fanno politica con te diventino anche i tuoi amici, i tuoi fidanzati, tuo marito e tua moglie, ma questo non vuol dire togliere il valore di un militante politico. E come vale per le persone delle quali sto parlando, alle quali nessuno ha mai posto il problema del familismo e sicuramente non l'ho mai posto io che ho rispetto della militanza politica, non accetto che questo lavoro si faccia con me perché mia sorella è da dirigente, da militante da 30 anni di Fratelli d'Italia, lavora a Fratelli d'Italia. Ha ragione, forse la potevo mettere in una partecipata statale come è stato fatto per diversi altri parenti, ma non me la sono sentita, l'ho messa a lavorare al partito mio. Grazie, Emilia Patta, Sole 24 Ore. Salve Presidente, auguri di buon anno. Il 2024 parte con prospettive non proporose per l'economia perché da una parte il nuovo patto di stabilità che lei ha definito un buon compromesso, un passo avanti, comunque non consente di ricorrere all'extra deficit come pure quest'anno è stato fatto e dall'altra le stime del PIL si stanno abbassando. Ricordiamo l'ultima di Banca Italia dà il PIL in crescita allo 0,6 quando il governo aveva previsto 1,2. Quindi, appunto, margini più stretti. La mia domanda è se si sente di escludere una manovra correttiva in corso d'anno. Allora, guardi, atteso che chiaramente tutti i paesi europei hanno fatto previsioni che sono state in corsa aggiornate per la situazione chiaramente nella quale ci troviamo e che comunque io sono contenta del fatto che l'Italia per la prima volta dopo diversi anni abbia una crescita stimata, anche la Commissione europea, superiore alla media europea, atteso anche, per precisazione, che il nuovo PAT parte dal 25 e non dal 24, mi pare molto presto, diciamo, per parlare di manovra correttiva, nel senso che chiaramente noi manterremo, come sempre, aperto il nostro osservatorio, che ci sono delle questioni, dicevamo prima, dei tassi di interesse che vanno chiaramente valutate e viste e in corsa si valuterà che cosa bisogna fare sulla base di quello che accadrà. Approfitto anche per dire che comunque io penso che dobbiamo cercare di guardare un po' più le luci che le ombre e dalla nostra economia, con tutte le difficoltà che stiamo affrontando e che affrontiamo, vediamo qualche segnale incoraggiante, no? Perché ho detto della crescita, la borsa italiana, penso, insomma, qualcuno l'ha scritto, l'abbiate letto tutti, ha fatto in quest'anno la migliore performance del mondo. Una volta che siamo i primi, diciamolo, diciamolo, questo siamo stati i primi. Lo spread, anche qui, che insomma era 220 punti base, lo dico per utilizzare un metro che piace spesso più a voi che, diciamo a me, ma era 220 punti quando questo governo si è insediato, stabilmente sotto i 160 punti, dati sull'occupazione, altra cosa, insomma, sulla quale dovremmo essere tutti contenti con una serie di record occupazionali, record di numero di occupati, record di percentuale di occupazione, record di contratti stabili, record di aumento di occupazione femminile, ci sono dei segnali incoraggianti. Non vuol dire che sono soddisfatta, contenta, no, vuol dire che incoraggiano a fare ancora meglio, ma che anche noi ogni tanto dobbiamo cercare di gioire delle poche cose che vanno bene. Grazie Giulia Di Stefano, TG2. Buon pomeriggio e buon anno. Quanto è accaduto in Iran ieri potrebbe comportare un'escalation delle tensioni in Medio Oriente e tra l'altro tra poco ricorrerà anche il secondo anniversario dall'inizio del conflitto in Ucraina. Volevo chiederle se questo 2024 potrà essere l'anno dell'inizio di un percorso di pace e quali saranno le strategie italiane su questo. Grazie. Ma guardi, il percorso, la definizione della tempistica su un percorso di pace chiaramente non dipendono da me. Io posso dirle come secondo me si costruisce la pace in questi scenari. E in parte l'ho già detto per quello che riguarda l'Ucraina, differentemente da quello che sostiene chi dice che non dovremmo mandare armi all'Ucraina perché così si produce un'escalation del conflitto, io credo che sia l'esatto contrario. L'unica possibilità che in Ucraina c'è di arrivare a una qualsiasi soluzione diplomatica, a un qualsiasi tavolo di trattativa è mantenere equilibrio tra le forze in campo. E se noi avessimo fatto quello che ci era stato proposto da chi dice che non dobbiamo...